Massimo Parenti, con la vostra associazione Alda e Sergio per i bambini, state portando avanti da tempo tante iniziative, ora si avvicina il Natale, cosa bolla in pentola? Di iniziative cerchiamo di essere sempre presenti alle richieste che ci vengono prospettate. Adesso stiamo vedendo un pochettino di poter dare a questi bambini qualche panettoncino, qualche pandorino, giusto per significare il Natale, visto che purtroppo la pandemia ci ha distaccato da tanti valori e quindi cerchiamo piano piano di poterci dare noi quella carica giusta per far stare un pochettino più tranquillo il bambino, per ridargli un pochettino quello che è il valore del Natale e dello stare in famiglia in un ambiente diverso da quello che è stato creato dalla pandemia. Inizialmente questo progetto non era, diciamo, in quello che era il nostro programma perché lo vedevo abbastanza pesante. Poi alla fine, vista la situazione che peggiorava sempre di più, abbiamo detto portiamola avanti, iniziamola e vediamo. I risultati sono stati tremendi ma nel senso positivo perché le psicologhe che stanno portando avanti questo progetto sono riuscite a creare un certo entusiasmo in questi bambini, a ricreargli emozioni, a farli parlare, a farli essere se stessi e quindi oggi abbiamo dei riscontri dove indifferenti. I bambini che passano, bussano perché vorrebbero riprendere il dialogo con le psicologhe, purtroppo i progetti hanno un inizio e hanno una fine. Però il risultato è quello che interessava a noi ed è stato stupendo.